La psoriasi pustolosa generalizzata è una malattia infiammatoria rara e potenzialmente letale caratterizzata clinicamente dalla comparsa ingittate di lesioni pustolose che sono quindi delle piccole lesioni cupoliformi con una zona giallastra superficiale che sono però sterili, quindi non infettive, che compaiono su una cute arrossata eritematosa che può interessare anche una gran parte della superficie cutanea. È una malattia che è rara perché rappresenta l'1% di tutti i casi di psoriasi. In Italia se ne stimano circa 125 in questo momento, quindi una prevalenza, ma deve essere diagnosticata precocemente e bisogna intervenire rapidamente perché ha un tasso di mortalità fra il 2 e il 7%.